Io non avevo visto prima il filmato, ma casualmente mi raccomando l'Unda che è certamente una canzone ispirata dal mare. Adesso io voglio chiamare qui una piccola grande donna, piccola perché non è un tema, però è una grande donna. È una grande donna per le cose che ha fatto, le cose che fa, l'animazione che crea il centro studi Turimodella, il grande merito che ha di mantenere viva la cultura popolare, che come si diceva è importante. Importante perché sono le nostre radici e non c'è futuro se non c'è passato. Lei non vorrebbe che io dicessi queste cose che adesso dirò, però io sento che ve le devo dire, insomma, perché la sua modestia non lo consentirete, ma lei è stata un'insegnante basica di lettere, ha scritto poesie, poesie è un poeta anche lei, nel ricordo del padre, lei si adopera perché rimanga viva la memoria del padre, ma questa stessa è una poeta, ha scritto simenza d'amore, ha scritto increscendo, ha scritto l'Una lunedda, che sono tutte raccolte, alcune di queste sono raccolte di poesie, per una lunedda, la Sicilia dell'infanzia, la strada della cruce, questa a lei mi ha colpito, quando lei mi ha regalato questo libro, è introvabile, mi ha colpito che cosa? La grande aderenza che c'è tra la croce, diciamo, del Vangelo che ci viene dalla tradizione cristiana è le croci dell'attualità, le croci che si portano oggi, questa è una bellissima operazione, perché altrimenti la religione sembrerebbe un'astrazione, un qualche cosa lontano da noi, una cosa che non ci riguarda, ma se la associamo, se facciamo il parallelismo con le croci moderne, con gli eccidi che ci sono nel mondo, con tutte le cose brutte che ci sono nel mondo, le croci moderne, e lei fa una grande operazione, secondo me, culturale, un'operazione che io ho sentito fare molte volte nelle omegie di Monsignor Costanzo, quello di accostare quella che era la verità evangelica, alla realtà di oggi, solo così praticamente si continua a essere profondamente cristiani e convintamente cristiani, quindi è un grande merito, veramente, io l'ho apprezzato molto quel tuo linticino che mi ha regalato, la strada della croce, e poi è scritto ancora Maramere, ma poi ha fatto, questa dipinge, dipinge e partecipa a delle mostre di pittura, non crediate, è intervenuta poi a esplorire i ragazzi per l'animazione del presente vivente, insomma è un artista a tutto mondo, naturalmente io ancora non l'ho detto, perché l'ho chiamato piccola donna, ma si tratta di Maria, di Maria, di Maria, di Maria, di Maria, i ragazzi è eccezionati nell'organizzare con pochissimi mezzi, io glielo riconosco, con, con, sono con persone bravissime, attravergute, ma poi naturalmente chi ha iniziato tutto questo ci sono i soci fondatori comunque Maria io ti lascio un ruolo perché tu certamente hai l'obbligo di dire qualcosa Maria come da noi come da noi mi compreanno l'altro giorno dicevo quando mio figlio ha fatto 40 anni ci ha fatto filmino di quando era in pancia fino ai 40 anni noi stiamo festeggiando un compleanno quindi è giusto che io ne parli come è nato perché è nato e per chi è nato tutto cominciò quando è morto mio padre io mi sono sentita circondata di grande amico e di grande amicizia da un mare di persone soprattutto poeti professori scrittori perché mio padre aveva mi ha lasciato questa grande eredità immensa l'amicizia di tutte queste persone che alla sua morte proprio una valanda è stata e allora ho pensato di creare a nome suo e secondo i suoi parametri di fare un concorso di poesia ma non solo di concorsi un concorso che fosse per il popolo perché lui aveva scritto che è un scrittore di cantastorie quindi un popolare di quelli che hanno poca voce nella letteratura poca attenzione e quindi di creare questo trofeo che fu Torino bella ne parlai con Corrado il quale ebbe un bel sussurro una pensata un'idea magnifica dice facciamo di questo concorso un motivo di studio cioè creiamo un indagine per vedere a che punto è la poesia popolare se con l'evoluzione dei tempi che c'è stato questa poesia esiste ancora o come esiste e qual è l'evoluzione e allora ecco siamo partiti con questo intento e si è fatto con l'aiuto di Orazio Carpino e di Mollone tra parentesi allora era collega e fu lui iniziò diciamo la sua carriera di editore proprio con le nostre antologie facendo prima i libretti le antologie del trofeo di truppella la prima antologia che lui ha stampato quindi con questo triadio abbiamo iniziato e visto l'interesse che ha suscitato abbiamo chiamato come giuria e quindi anche come esperti per fare appunto per creare queste giornate di studio abbiamo chiamato persone di un certo valore tipo Di Marco di Palermo Fortunato Pasqualino una persona squisita bellissima e Otello Profazio per quanto riguardava i cantastorie la professoressa Midrano Saparese di Catania e tanti altri non è nato soltanto alcuni ma era una bella schiera e proprio da queste giornate di studio è nato il centro studi ecco perché ho parlato di questo perché il centro studi è una propagine che mentre il trofeo si occupava soltanto della lingua e della poesia abbiamo allargato l'orizzonte anche qui come abbiamo perché ci sono state altre otto persone oltre Corrado oltre me e Corrado e sono li nomino tutti perché veramente si è formato nel 96 il primo direttivo dei fondatori Orazio Carpino Maria Pugliatti Maria Mangiameli Corrado Di Pietro Pinuccia Callari Maria Rosa Malesani Umberto Garro e pure mio marito Paolo Raudino quindi questo infatti nel 96 eravamo arrivati già al quinto trofeo di poesia popolare e lo abbiamo dall'uno è venuto fuori l'altro e quello filmato che avete visto lì all'inizio della serata fu fatto proprio il giorno in cui è stata presentata al pubblico la nostra associazione e fin qui la nascita ma noi abbiamo iniziato subito a lavorare abbiamo fatto la prima cosa che abbiamo fatto è stata una mostra di presepi che è stata organizzata e allestita dal professor Roberto Garro nella chiesa del Carmine poi abbiamo cominciato ad uscire con i nostri soci per fortuna molto numerosi perché siamo arrivati anche a 100 120 soci per conoscere il nostro territorio e abbiamo visitato i musei etnografici della Sicilia siamo state nelle varie feste religiose nei paesi dell'interno nei vari paesi abbiamo visto anche la testimonianza del passato dei juderi e dei siti archeologici tutto sempre preceduto da conferenze e da discussione prima e dopo la visita quindi abbiamo un po' cercato di scoprire fisicamente andando veramente di persona a vedere quali erano queste manifestazioni popolari devo ringraziare intanto Marisa Fiore che i primi anni ci ospitò nei locali di Corso Umberto bellissimo locale bellissimi locali bellissimi tre grandi stanze tre grandi stanze mi sentite lo stesso? tre grandi stanze che ci hanno permesso che ci hanno permesso di fare di fare una mostra più che mostra una rassegna avete visto Mare Nostrum una rassegna che durò tutta la settimana multimediale con non solo le musiche con le registrazioni dei canti del mare con le immagini con le conferenze abbiamo fatto venire il principe come si chiamava ragazzo del Monte appunto del Monte è venuto anche a fare un incontro per i giovani il nostro è morto da poco Mallorca il nostro Mallorca e poi insomma c'è stato veramente una settimana di incontri una settimana bellissima abbiamo fatto venire i ragazzi della scuola è stata una cosa eccezionale però purtroppo abbiamo dovuto poi lasciare quella casa e di là non vince il Calvalio perché purtroppo non abbiamo mai avuto nonostante richieste all'operario di avere un posticino dove poter fare le nostre attività in un primo momento avevamo affittato un basso a Santa Lucia Piazza Santa Lucia ma anche lì a un certo punto non ce l'abbiamo fatta più a pagare la retta e ce ne siamo dovute andare abbiamo poi siamo state da Padrinzerra poi siamo state da Gentile per questo li ho nominati adesso siamo ospiti nella casa di Piscitello ecco che è il responsabile della sede dove siamo noi ripeto siamo stati in giro per cui anche delle cose che noi altri vorremmo fare o avere non abbiamo un posto dove farlo per esempio dico di più io ho dato e mi ho dato ad uso all'associazione la biblioteca di mio padre non i libri di mio padre la biblioteca di mio padre che avendo lui dei rapporti così anche letterali perché lui mandava i serbili a tutti quelli che conosceva i vari poeti e loro rimandavano quelle loro opere tutte con verica per giunta quindi c'è tutta la letteratura siciliana popolare del del novecento e sono circa seicento volumi dove li metto? a casa mia ho fatto l'elenco ho detto chi li vuole consultare chi vuole venire mi telefona e viene a casa mia non c'è altra soluzione quindi siamo un pochino impediti di questo anche perché non abbiamo più aiuti economici qualche cosa prima quando si potevano fare queste cose adesso non abbiamo più nessun aiuto economico non abbiamo più editato Eppnos già da due anni non abbiamo più editato Eppnos che è la rivista nostra che è veramente la storia del centro studi e quindi siamo in queste condizioni siamo appunto grazie ai volenterosi grazie alle persone che per amore e per amicizia vengono a fare le cose tipo abbiamo fatto teatro è venuto Luca Morelli a fare il teatro con noi c'è la Dabruschi che ci segue che sta con noi quando dobbiamo fare resi dalla qualunque c'è Dominella Santoro la quale Dominella l'abbiamo è sia Dalla che Dominella sono dei nostri soci onorali e poi abbiamo avuto personaggi grandi c'è stato Vittorio Luca che per esempio nel Cosa del Mare avete visto anche se guardate nei cartelloni ci sono un quadro di Luca il lo scultore Acquaviva Acquaviva che ha fatto Acquaviva Acquaviva è un'altra che aspetta così c'è stata una connessione Bevinacqua che ha fatto i trofei bellissimi con la sua arte con la sua rappresentante rappresentando i cantastorie ci sono state tutti i cantastorie che erano a luci di mio padre o allievi di mio padre e addirittura per loro abbiamo creato anche una sezione opposta e stiamo lottando per avere per farle cioè lottando veramente lavorando per far entrare nel nell'UNESCO il genere dei cantastorie i cantastorie quindi abbiamo collaborato con tante associazioni abbiamo fatto parte del consorzio Siracosia per la costituzione del museo del mare oggi su Numa e insomma ci siamo mossi molto e nonostante gli anni penso che li portiamo ancora bene benissimo la nostra Maria bella animatrizza del gruppo e io ho detto che cosa ho detto l'altra sera è stata premiata del premio paladino e quindi stasera lui ci deve far ascoltare qualche cosa ci deve aspettare perché scopriamo scopriamo cominciare credo che ci sia il pubblico il professore Salvino Strano bravo sono andato a trovarlo a scuola uno che insegna il calcolo prego il professore Salvino Strano che è un bravissimo pianista è eccezionale guardate peccato che stasera non c'è pianoforte che lui ama di più e pianoforte che attona altrimenti ascolteremmo dalla viva voce degli strumenti che oggi come oggi guardate è difficilissimo ascoltare la musica dalla viva voce degli strumenti perché con tutta questa musica amplificata passata attraverso tutte queste strade strumenti che la modificano della piazza della leggera si è perso il suono che non puoi mai che vedere una volta si passava per le strade anche se dopo dei ricordi dell'infanzia e si sentiva la sua e una volta di segnare era una cosa da dire la viva voce degli strumenti musicali oggi si è perduta e lui in molte occasioni in un'altra associazione in un'associazione musicale ci fa ascoltare dalla viva voce del pianoforte a cola delle musiche intramontate questa sera penso che accompagnerà domenelle perché la voce è irreale non è elettronica la voce è quella vera non è il sole nel muore va bene va bene bene allora voi domenella Santoro accompagnata dal maestro Salvino Strano grazie per voi grazie grazie sì per i brani che adesso seguiremo sono brani convenienti della tradizione siciliana della nostra tradizione in particolare prima Muramuri bellissimo brano sono entrambi i brani d'amore e poi Mimote per il ruoto che abbiamo eseguiti insieme ad altri brani in occasione della presentazione dell'ultimo libro di Corrado di Pietro proprio dedicato ai canti d'amore ed era il 14 settembre di quest'anno quindi mai giorno non poterà essere insomma mai giorno più adatto per poter interpretare questi brani e allora vi dedichiamo la nostra musica per poterare l'amore l'amore ho fatto fare ma ho fatto fare grandi pazzini l'upeggio non sciumà ho fatto scuretà l'aveggio partirì l'aveggio maria l'aveggio maria l'aveggio maria amore 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 Amore, 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 amore Amore, amore, amore Amore, amore, amore E prende un pescantino come un ladegnante, come un gianciatore, una paglia. Guarda su gorgon, la santa santa, con ferro tirai adnacchia. Amore, amore, amore. Amore, amore, amore. Amore, amore. Amore, amore, amore. Amore, amore. Amore, amore, amore Grazie 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 E adesso siamo pronti per invece accogliere qui, accanto a me, qui al centro, un'altra colonna del centro studi di tradizioni popolari dell'Università Poeta, saggista, conferenziere, si è sempre occupato di organizzazioni di conti e resi, conferenze, convegni, mosche, rassegni, ovviamente con particolare riferimento agli studi elettorari e etnologici, di andrà Grazie Da oltre 40 anni collaborano con settimanali, riviste locali e nazionali, di comunicatura, arte e folclore, con particolare riferimento alle tradizioni popolari e al teatro di un'altra lingua Oltre 20 le sue pubblicazioni, che riguardano la poesia indialecchia e lingua, la saggistica letteraria e etnologica, la narrativa e il teatro popolare Il più artico, costante e prezioso collaboratore del centro studi, che già 5 anni prima della costituzione del centro si è impegnato nella teoria del teatro popolare di Dubai, da come ci raccontava la mia La sua collaborazione lo ha visto per 10 anni, direttore della rivista Etnos, arricchito con le sue conferenze e i suoi scritti il bagaglio culturale e antropologico dell'associazione, non soltanto, della città E favorito i contatti con musei studiosi di grandi tradizioni, ne ricordiamo qualcuno, Monsio Bruno, Giuseppe Bruno, Rosario Acquaviva, Luigi Lombardo, Fortunato Pasqualino, quindi anche fuori dalla Sicilia, di Roma, Santi Correnti, Salvatore Di Marco, Giuseppe Cavarra, Salvatore Rioro, Salvatore Alinei Quindi con grande piacere e onore, che voglio qui accanto a me per parlarci un po' della nostra cultura, della nostra storia, Donrado Di Pietro Grazie, grazie veramente Io mi stavo rivedendo lì con i capelli professionali di 20 anni fa, da ragione con i capelli bianchi Come siamo cambiati, come siamo cambiati Come tutto è cambiato, in 20 anni è cambiato non solo il centro che si è sviluppato, ha abbracciato altri settori, eccetera, ma siamo cambiati noi, la società, eccetera, eccetera Ho apprezzato molto il tuo intervento, tu mi stimoli, non vedi, non vedi, ecco E io lo riprenderò, ma consentitemi di dirvi perché è nato il centro Alcune motivazioni le ha già espresse Maria e sono quelle storie, chiamiamole così Io vi parlo di qualche cosa di diverso, dello spirito Vedete, la nascita di un centro studi non è come quella di un'associazione culturale normale Dove si raccolgono gli soci per poter parlare, per poter esporre le loro opere, le loro idee, eccetera La nascita di un centro studi, lo dice la stessa parola Intende quantomeno come proposito quello di studiare i fenomeni sociali, culturali, artistici Questo è stato l'intento che dall'inizio ha animato il nostro tentativo di conoscenza Ecco, la conoscenza Nel caso specifico delle tradizioni popolari la conoscenza si sviluppa su due strade, su due itinerari Quella del folklore e quella degli studi di etno-antropologia come si usa, definibili oggi Il folklore è il ricordo, la riproposta di alcune usanze, di alcuni costumi, di alcune tradizioni della nostra cultura Invece lo studio etno-antropologico è il confronto, l'analisi, proprio lo studio dei fenomeni che fanno o che hanno fatto sorgere il folklore Quindi il rapporto di crescita fra individuo o persona da una parte e società dall'altra In questa dialettica culturale, sociale, artistica, tutto quello che volete In questa dialettica, ecco, si studiano, si capiscono le radici Sono così come prendiamo le radici Le radici non vengono capite se noi diciamo un detto popolare Sicchia di semplicitare, no Non ha più senso oggi che siamo immersi in un contesto di, come dire, di digitalizzazione quasi del pensiero Hanno un senso invece quei fenomeni di comprensione Da dove viene la parola dialettale, da dove viene l'espressione dialettale Da dove viene l'uso dei colori nelle feste Da dove viene l'uso di altre situazioni nei vari settori, nei vari campi E' fondamentale questo Altrimenti il nostro centro, che ha abbracciato tanti aspetti della cultura popolare Non avrebbe senso Ma che senso avrebbe riproporre così, senza spiegargli, senza far capire ai ragazzi, agli altri Il perché di certe usanze Questo è lo spirito, caro Egidio, mi ricollego ora al tuo discorso Che ha informato la legge, perché dove si parla di cultura Nel senso vasto del termine Addirittura la regione siciliana Ha creato un assessorato Non proprio alla cultura, ma all'identità siciliana E la parola identità sta a significare Questo processo di immedesimazione Con la nostra storia, con la nostra tradizione Quindi non folclore Che ha i suoi tesori, ha la sua importanza Ma Un'antropologia siciliana Verra e propria Noi che veniamo da così lontano Lo possiamo dire Che antropologicamente abbiamo molto da scoprire E molto da dire Solo in quest'ottica È comprensibile L'istruzione della cultura siciliana Nelle scuole Altrimenti i carusi non ne sentono Perché non ci interessa nulla Delle tradizioni che si usavano cent'anni fa Un perretto, un perreppiero Un canto del pescatore Un canto del pescatore Che senso ha Se non quello di una riscoperta Di una dinamica socioculturale Che ancora oggi persiste sotto forme diverse Sotto forme naturalmente più diverse Senza dire più cronite Ma diverse sicuramente E che si manifesta Poi sai i processi culturali Sono sempre gli stessi nella storia La dialettica fra le classi La dialettica fra le situazioni La dialettica pura e anche culturale È sempre la stessa Cambiano gli attori Cambiano le posizioni Scusi Le posizioni Ma la dialettica rimane quella E allora nell'ambito di questa dialettica Sia noi come Centro Studi Sia sicuramente altre associazioni Io ne rappresento altre qui a Seracusa Possiamo aderire a questa tua iniziativa E possiamo farla nostra E portarla avanti Solo se si porta anche a scuola Quello che E lì vengo ancora al tuo discorso Quello che è un punto di vista dimenticato Noi con Maria Bella Questo l'abbiamo fatto da 20 anni Con questo Centro Studi Dar voce alla cultura popolare Ma non per amore di una cultura passata Io non sono un passatista Io guardo al futuro E guardo al futuro anche Il dialettale, culturale Della mia sicurezza